come ci siamo già detti c'è un libro nella scrittura chiamato il libro dei salmi una raccolta di 150 preghiere che lo stesso Gesù ha usato per pregare oggi preghiamo con una parte del salmo 33 ho cercato il signore e mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato guardate a lui e sarete raggianti non saranno confusi vostri volti questo povero grida e il signore lo ascolta lo libera da tutte le sue angosce gustate e vedete quanto è buono il signore beato l'uomo che in lui si rifugia